Pronto? Sto cercando Turghà! Sì? Sta male! È molto malato! Cosa? Devi venire da lui prima possibile! Ora sei un uomo, Turghà, e anche se non sono io il tuo vero padre, mi sono sempre comportato come tale. E c'è il problema del fieno. Dov'è il campo da facciare? È laggiù, dietro la collina. Lo posso fare io? Via! Ehi, tu! Perché prendi a sassi le mie pecore? Vedi di andartene! Questo è per te! Certo che il ragazzino ha fegato. Io dico che diventerà un vero duro. È solo un piccolo bastardo. Il frutto dell'avventura di una notte. Si sa! Tuntule, perché non mi hai detto la verità? Quando le persone scoprono che non ho un padre, mi prendono in giro. Come facciamo col raccolto? Il fieno può aspettare! Non l'avevi detto tu? Quando te ne andrai? Quando finirò il raccolto. Abituarsi alle cose buone non è tanto complicato. Quello che indubbiamente non è è abituarsi gli uni agli altri. È ora che torni a casa. iniziamoci tutto. Seguisco!